Anche Raiano entra a far parte della zona economica speciale, la ZES. Nell'elenco dei comuni per i quali la Regione ha chiesto al Governo l'ingresso nella ZES, c'è anche il centro Peligno. Il lavoro portare avanti dell'amministrazione comunale, iniziato il 12 marzo 2018, di concerto con gli uffici, ha portato i suoi frutti. Infatti l'Aggiunta regionale ha approvato il piano strategico per l'istituzione di una zona economica speciale, ricorda il sindaco Marco Moca, spiegando che sarà premiata l'azione dell'amministrazione comunale, che riuscì a far comprendere le proprie tesi, basate sulla vicinanza al casello autostradale e sul fatto che trattasi di un'area già urbanizzata e quindi in linea con i canoni di consumo di territorio zero, concetto ormai imprescintibile. Insomma, Raiano ce l'ha fatta. Un lavoro fatto in silenzio, senza troppi proclami, ma ugualmente portato a casa. L'attività di concertazione svolta sul territorio regionale ha condotto, anche a seguito di specifiche richieste prevenute alla Regione e da parte dei Comuni, alla definizione delle aree ritenute strategiche per le fenerità della ZES, mediante l'individuazione di porzioni di territori per la quasi totalità ricompresi, tranne rarissime eccezioni all'interno di agglomerati industriali esistenti. La scelta regionale è stata, pertanto, indirizzata alla localizzazione delle aree ZES su aree libere, potenzialmente interessate nei vestimenti futuri, sull'immobile in disuso, al fine di limitare il consumo del suolo, come richiesto da diversi sindaci, in serie di concertazione su alcune aree già interessate da attività produttive attive, ma che possono prevedere ulteriori investimenti. Oltre a Raiano, la Regione ha chiesto al Governo di far entrare anche Pratola e Sulmona.